Brute notizie per tutti i cittadini, alla fine la mini stangata sull'Imu, il governo l'ha confermata. Assolutamente sì, siamo arrivati all'inizio del 2014 per vedere le carte sul tavolo dell'eliminazione del Limo 2013 e si è scoperto che per 2.400 comuni, stiamo parlando oltre 10 milioni di persone, rimarrà una parte del Limo 2013 che dovranno pagare entro il 24 gennaio. Quindi proseguono i pasticci di questo governo che ad agosto aveva promesso addirittura l'eliminazione di questa parola dal vocabolario, in realtà la parola Imu rimane come e sboterà ancora di più le tasche dei cittadini e delle famiglie. E i pasticci ci sono anche per quanto riguarda la cosiddetta Tasi? Sì, perché c'è una ribellione da parte dei comuni, nel 2014 questi avranno un buco di bilancio e il governo aveva promesso che proprio stamattina avrebbe proposto un emendamento per rivedere le aliquote della Tasi che sotto altra forma, sotto finto nome sostanzialmente sostituisce sulle prime abitazioni l'Imu. La maggioranza è nel caos totale, ha deciso di non presentare questa modifica in questo decreto Imu-Banca d'Italia, lo presenterà in un successivo provvedimento e qui i sindaci sono ovviamente ancora più arrabbiati perché non hanno gli elementi per predisporre il bilancio per quest'anno 2014. Ma certamente c'è una certezza, tutti pagheranno più tasse rispetto al 2013, c'è una valutazione la più ottimistica di 4 miliardi in più, c'è Confedilizia che parla addirittura di 8-9 miliardi in più sul 2013, quindi un vero e proprio disastro.